Taranto, centrale dello spaccio. Taranto è la sua provincia. Tra il capoluogo Grottaglie e Massafra, carabinieri e polizia hanno catturato tre spacciatori e sequestrato circa 250 grammi di droga, tre eroina, cocaina e hashish. Non solo, recuperate anche tre pistole. Tra gli arrestati in zona Borgo a Taranto, Christian Terra, 24 anni, preso dagli agenti della sezione Falchi della Polizia, che hanno perquisito la sua abitazione trovando, nascosti in una scatola di scarpe, cinque involucri termosaldati contenenti cocaina allo stato puro per un peso complessivo di 100 grammi. Sempre a Taranto e sempre in una scatola di scarpe, ma questa volta in città vecchia, i carabinieri del nucleo investigativo hanno trovato in una casa diroccata in via Pentite una pistola con matricola brasa, calibro 6,35, nascosta in un calzino di spugna. Un'arma perfettamente funzionante, pronta ad essere utilizzata, due i colpi già inseriti. Ancora nella scatola c'erano le fedeli riproduzioni di due pistole, una calibro 8, priva di tappo rosso e modificata per sparare, e un'altra BBM, modello 7,65. Oltre alle tre pistole c'erano 8 proiettili calibro 6, 50 grammi di hashish, 40 di cocaina e 13 dosi di eroina per il peso complessivo di 10 grammi. Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al proprietario della scatola. Le armi sono state inviate intanto a Racis di Roma per le comparazioni tecnico-scientifiche e balistiche per eventuali riscontri su crimini recentemente commessi. Ancora i carabinieri, ma questa volta a Massafra, hanno arrestato un giovane di 25 anni, beccato con 28 grammi di hashish e 220 euro, ed infine a Grottaglie un 23enne finito in manette sempre per spaccio, nelle tasche una decina di grammi di hashish.